Musica Mercoledì 30 gennaio, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TRG quest'oggi in evidenza due notizie in qualche modo davvero di sapore diverso da un lato c'è il messaggero che ci fa il resoconto sulla criminalità e ci dice che sono sempre più giovani anche 14 anni quelli che commettono reati in Umbria e ovviamente la notizia non fa certamente piacere dall'altro la vincita davvero milionaria che si è avuta a Foligno dove con un gratta e vinci sono stati vinti qualcosa come 1.800.000 euro due notizie di due volti in qualche modo dell'Umbria che vengono raccontati quest'oggi dai quotidiani ma parleremo anche di Perugia con lo strappo di Patron Sirci l'uomo del volley potremmo definirlo così che dice basta le lungaggini burocratiche per avere un palazzetto all'altezza della sua squadra lo hanno stancato ed ora minaccia davvero di andarsene da Perugia allora le prime pagine dei quotidiani il Corriere dell'Umbria titola proprio gratta e vince 1.800.000 euro colpo grosso a Foligno con un turista per sempre da 5 euro acquistato al bar della stazione caccia ovviamente al super fortunato e poi guai col fisco per Bissani che dovrà pagare 45.000 euro e ancora l'inchiesta che vede sotto accusa il PM attualmente ad Ancona Duchini parla Rizzuto l'imprenditore che vide l'archiviazione di due inchieste che lo riguardavano da parte del PM Duchini dice ho pagato ma solo per aiutare Gisabella quindi solleva da ogni responsabilità il PM Duchini e poi ladri saccheggiano le piccole chiese di montagna è accaduto nella zona di Ferentillo siamo dunque nel Ternano la nazione apre invece con Sirci la schiacciata di Sirci lo leggeremo ovviamente nelle pagine interne il suo mal di pancia vero e proprio per la questione palazzetto e poi da Foligno gratta e vince quasi 2 milioni di euro ladri scatenati Umbri sotto assedio nella regione c'è un furto ogni mezz'ora questa la conta si potrebbe dire dei danni e poi successo a Perugia San Costanzo la dolce festa del patrono a Perugia conquista anche i turisti il messaggero titola con criminali a meno di 14 anni la corte d'appello fotografa una situazione allarmante decine di giovanissimi si rendono autori di reati e violenze lo spauracchio dei furti nelle case oltre 17 mila assalti in un anno davvero tantissimi a Terni feto malformato il caso va subito riaperto e poi lo vedremo nelle pagine locali sotto processo per essermi difeso da minacce di morte la storia di un buttafuori che si è trovato davanti una persona che gli ha detto ho la pistola ti sparo da qui ovviamente la sua difesa e poi però a suo carico una denuncia per la quale ora deve rispondere davanti al giudice la tregua di San Costanzo Bassetti città unita intorno al patrono vedete in questa fotografia la stretta di mano tra l'attuale sindaco di Perugia Romizzi e il candidato per le prossime elezioni amministrative del PD Giubilei insomma una vera e propria pagina il nome del patrono e ovviamente la notizia da Foligno gioca 5 euro e ne vince quasi 2 milioni questo nelle pagine le prime pagine dei quotidiani l'home page del nostro sito www.trgmedia.it ci porta invece a Gubbio dove venerdì verrà presentato un progetto lo troveremo quest'oggi anche nei quotidiani un progetto relativo allo studiolo di Federico da Montefeltro quindi siamo a Palazzo Ducale un progetto multimediale per far rivivere non solo lo studiolo che è stato ricostruito ma anche proprio l'atmosfera dello studiolo al visitatore del palazzo se ne parlerà venerdì mattina ma lo troveremo dicevamo anche nei quotidiani andiamo a leggere le pagine regionali ripartendo dal Corriere dell'Umbria che ci porta nel Ternano esattamente a Gabbio di Ferentillo dove ladri scatenati hanno saccheggiato la piccola chiesa della frazione davvero stolti questi ladri perché non hanno soltanto portato via quello che potevano portare via non c'erano grandi cose ma addirittura hanno sfregiato delle vere e proprie opere d'arte la foto ci riporta infatti l'immagine di una statua un angelo che è stato letteralmente decapitato e allora l'archeologa Picuti dice i comuni non investono per la sicurezza di queste piccole chiese che sono però dei veri e propri scrigni di opere d'arte e ci sono anche i dati potremmo dire così su quello che avviene poi a queste opere che vengono rubate quante ne sono state rubate? bene sono state 377 quelle che sono state rubate e poi recuperate nel corso del 2018 per un valore di mezzo milione di euro le opere d'arte che vengono rubate in genere vengono piazzate ovviamente su un mercato clandestino ma anche attraverso vendite online da lì ovviamente le indagini dei carabinieri e poi si parla moltissimo in questi giorni in Italia delle pensioni pensioni quota 100 al via si parte con quegli umbri che possono ambire alla pensione raggiungendo tra età anagrafica e anni lavorati quota 100 ebbene sono 3000 gli umbri che possono aderire potremmo dire così a questa finestra questo per le pagine di interesse regionale del Corriere la nazione oggi appunta la sua attenzione su Perugia e sul fenomeno la squadra di volley la Sir un vero e proprio gioiello dell'Umbria ma ieri il patron Sir ci ha detto basta me ne vado Palabarton piccolo per i playoff ha detto Sirci che siamo una squadra di livello mondiale ma anche la più penalizzata a livello di impianto se continua così ce l'ha ovviamente col palazzetto saremo costretti a prendere la decisione di andare altrove Sirci conferma l'annuncio dei suoi contatti per disputare le gare le gare più importanti dei playoff scudetto presso il Palalottomatica di Roma la questione l'avrete sicuramente seguita riguarda proprio l'ampliamento del palazzetto la burocrazia rende farraginosa questa vicenda e ovviamente il patron non ci sta intanto c'è un'altra vittima eccellente se vogliamo della burocrazia siamo sempre a Perugia vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi che Ikea ha deciso di non investire più nell'area di Collestrada non verrà più costruita e allora Eurocommercial che poi è l'azienda che in qualche modo aveva redatto il progetto per Ikea vara una nuova proposta a breve rilanceremo il progetto ovviamente non con Ikea ma senza Ikea il progetto di riqualificazione dell'area di Collestrada sulla questione della E45 l'intervento sulla E45 quello che era stato in qualche modo legato proprio al nodo di Collestrada ora rischia di saltare quindi il riammodernamento anche dell'asse diario intorno a Perugia a questo punto non essendoci più l'interesse di Ikea potrebbe non essere realizzato questo per la nazione andiamo al messaggero che oggi nella sua pagina di interesse regionale ci racconta dei minori minori che sono sempre più criminali criminali a meno di 14 anni la corte d'appello fotografa una situazione davvero allarmante in due anni oltre 50 giovanissimi e quindi parliamo di ragazzini sotto i 14 anni si rendono autori di reati e violenze ovviamente la situazione è in continua crescita un vero e proprio allarme sociale oltre soicenti procedimenti penali avviati nell'ultimo anno nei confronti di minori in particolare si rendono protagonisti di furti e spaccio ma anche lesioni per aggressioni per esempio ai coetanei e poi la storia di questo butta fuori che è stato processato o dice per essermi difeso da minacce di morte perché fuori da una discoteca facendo il suo lavoro ha intimato ovviamente l'ordine ad una persona che poi lo ha minacciato con una pistola bene questo per le pagine di interesse regionale andiamo nel dettaglio di quelle locali ripartendo dal Corriere dell'Umbria ed andiamo a Perugia in particolare la vicenda l'abbiamo già letta ma ci ritorniamo che vede sotto inchiesta il PM Duchini ve l'abbiamo detto Duchini accusata tra l'altro di aver archiviato dei casi perché avrebbe ricevuto dei soldi parla l'imprenditore Rizzuto che ha visto archiviato appunto il suo caso dice soldi a Gisabella Gisabella è quest'uomo delle forze dell'ordine che secondo l'ipotesi accusatoria sarebbe legato alla Duchini dice è stato solo un prestito tra amici niente di più e quindi tira fuori la Duchini da qualsiasi responsabilità Perugia ha festeggiato San Costanzo il nostro San Costanzo unisce tutta la città parla il cardinale Bassetti il padrono ci ha indicato la strada della resistenza al male questo ha detto Bassetti e poi ovviamente la fiera la fiera grande resiste alla crisi in tanti ieri hanno partecipato eventi così dicono i cittadini aiutano il centro andiamo a parlare di questa passerella sul Tevere svolta vicina cambierà la vita di pedoni e ciclisti conferenza di servizi per il progetto della pista lungo il fiume parla Manis Feliciana il paese aspetta da tempo e poi molti ricorderanno questo locale perugino il Red Zone nuova asta prezzo di mezzato questo storico locale che negli anni 90 toccò l'apice della notorietà è stato di abbandono dopo il fallimento a febbraio ci sarà a febbraio 2018 già c'è stata un'asta ora ce ne sarà ancora un'altra prima il prezzo era di 1.200.000 euro adesso il 10 maggio si riparterà da 614.000 euro insomma sembrerebbe che nessuno lo vuole a Montelago siamo a Magione installate casette per ospitare i gatti accade anche questo un terreno messo a disposizione gratuitamente da alcuni cittadini per ospitare rifugi per gatti ovviamente randagi e poi siamo ad Assisi telecamere nei cimiteri contro i furti nel mirino dei malviventi infatti nei cimiteri è il rame che si trova sulle canaline delle cappelline e sui vasi dei fiori bene nuove telecamere cercano di scoraggiare questa pratica e a Cannara Irre le dimissioni del presidente fanno parlare il PD e l'ex consigliere Giorgolo rimarcano la bontà del lavoro svolto da Di Stefano a Bastia Umbra si consuma questa si è ormai consumata a dir la verità questa lite tra il sindaco Anzideri e l'ormai ex assessore degli esposti la sua colpa è stata quella di essere candidata per le prossime elezioni amministrative in quota lega il sindaco le ha ripreso in mano le deleghe ma la signora ha detto grata al sindaco che mi ha permesso di lavorare per la mia città sono tante le opere pubbliche portate a termine e ora il suo auspicio è quello di proseguirle nella veste però di sindaco in quota lega andiamo a Todi dopo 12 anni la palestra ancora non c'è succede a Ponterio lavori a singhiozzo degrado ovunque l'assessore primieri assicura ad aprile ci sarà la consegna andiamo a città di Castello quindi saliamo in Alto Tevere la variante al PRG viene approvata nella notte in consiglio comunale no alle lottizzazioni nelle zone vicino alla E45 e alla trasformazione di terreni agricoli in nuovi insediamenti a Pulciarati e Col di Pozzo la vicenda la ricorderete del giostraio accusato di violenza nei confronti di ragazzine l'accusa per lui è quella di aver barattato giri gratis in giostra in cambio di carezze e molesti ebbene il processo va verso la sentenza e poi questa cosa davvero singolare che è accaduta ieri a città di Castello e di cui in realtà non si conosce bene la motivazione le suore di clausura pregano in strada fuori dal convento bene ieri mattina intorno alle 8 della mattina nel centro storico tra via Mario Angeloni e via 11 settembre 11 suore della congregazione di clausura delle Francescane dell'Immacolata le vedete in questa foto con il loro breviario in mano hanno pregato per strada non hanno ovviamente risposto a nessuno sul perché facessero questa operazione le suore di clausura non parlano ovviamente con gli esterni ma la vicenda è stata variamente interpretata una preghiera per la città una preghiera diciamo più vicina ai fedeli fatto sta che ovviamente la questione ha suscitato più di una curiosità e poi ci spostiamo andiamo a Gubbio dove il comitato degli alberaioli ha scelto il proprio nuovo presidente si chiama Fumanti ha detto Massimo impegno per portare il nome della città in tutto il mondo prende il posto di Lucio Costantini percorsi di danza l'Icuvium Ballet la scuola di Pierini ha ospitato la seconda tappa di una manifestazione itinerante e poi venerdì la presentazione come vi abbiamo detto di un tour virtuale nello studiolo di Federico da Montefeltro mentre ci sono le borse di studio dell'ascito Ceccarelli Spalazzi è stato aperto il bando a Gualdo Tadino l'azienda Ducops al fianco di Polimarch nel progetto di Formula SAE la cooperativa aiuterà il team dell'università a livello logistico nella competizione motoristica ieri mattina a Gualdo Tadino e a Nocera le scuole erano chiuse a causa della nevicata stamani si torna a scuola Foligno gratta e vince 1.800.000 euro è accaduto al bar buffet della stazione di Paola Tortorelli non si sa in realtà chi abbia acquistato questo biglietto la signora dice non ci siamo accorti di nulla speriamo non si ricordi di noi caccia questa o questa persona che di fatto è diventato turista per sempre inoltre ancora dal territorio di Foligno ospedale tregua furti finita nuovi colpi nel fine settimana borse capi d'abbigliamento rubati in corsia a Spello un ride nel casolare spariscono orologio e catenina e poi a Spoleto cambiano le vie per 500 famiglie toponomastica cittadina rivoluzionata nomi nuovi a 12 strade e una piazza dedicata ai minatori inagibile a Spoleto anche la chiesa di San Pietro il comune dopo l'ultimo sopralluogo post sisma ne ha stabilito la chiusura e ancora Spoleto prepara nuovi talenti superata la selezione i giovani saranno ospitati e formati da professionisti prima di entrare in scena la città del festival torna ad essere il luogo di produzione artistica e poi a Terni oltre 400 multe in un anno abbandonare o conferire in modo irregolare la propria spazzatura è costata a Ternani qualcosa come 50 mila euro di sanzioni andiamo alla Nazione per le sue pagine locali e allora il resoconto diremmo così delle forze dell'ordine è davvero impietoso a Perugia un furto ogni ora lo scorso anno i colpi commessi sono stati 8832 a Todi vi abbiamo raccontato ieri la storia di quell'uomo che con un fucile da caccia ha sparato ad un pick up dell'Enel credevo fossero ladri ora è accusato di tentato omicidio e poi le holding che sfruttano i disperati portano migranti a Perugia la tratta una vera e propria tratta di esseri umani vengono assoggettati e costretti alla prostituzione e all'accattonaggio da Foligno l'abbiamo letto la vincita da Nababbo 1.756.000 euro per l'esattezza vinti con il turista per sempre e poi due pagine dedicate a Perugia alla festa di San Costanzo la festa del patrono più amato centinaia in fila per il Torcolo davanti al municipio il cardinal Bassetti che ieri ha detto il mio pensiero va alle persone della Sea Watch ancora l'artista del legno Caponi e la sua bottega museo al Borgobello un pezzo per raccontare l'artigianato di qualità mentre i dati certificano che il sistema delle imprese in Umbria segna il passo peggior risultato degli ultimi cinque anni insomma settore giù rispetto anche al 2017 e poi da Gubbio l'abbiamo ampiamente visto venerdì viene svelato questo percorso multimediale se vogliamo anche sensoriale a Palazzo Ducale per riscoprire il fascino del periodo di Federico da Montefeltro ci saranno anche le musiche dei micrologus Filippo Timi torna a Perugia con Favola allo Zenit e poi andiamo al Trasimeno Pievagliola pressing sulla provincia diteci quando ripartono i lavori ancora nel territorio di Assisi si continua a discutere sulle fonderie Tacconi c'è una nuova querela tra le fonderie Tacconi e il comitato dei cittadini intanto ad Assisi si inaugura la scuola Tognolo e si parla d'Europa a Bastia Umbra via alla campagna di adesioni per la Proloco l'invita i giovani a partecipare e poi da Gubbio o meglio ancora dal Burkina Faso la storia la missione dell'associazione L'impegno in Burkina Faso dove è stata negli ultimi giorni e dove un'equipe medica ha operato agli occhi tanti tante persone tanti bambini che lì per una semplice cataratta sono destinati ad essere ciechi Festa dei Ceri proiezione pubblica del film Prodigio e poi ancora Gubbio è fumante il neopresidente degli alberaioli a Gualdo Tadino una lezione di John Arnold per la scuola di musica della città andiamo a città di Castello l'emporio della solidarietà ha aiutato centinaia di famiglie tifernate anche qui la povertà si fa sentire e poi rimuovete quell'auto ferma da mesi in piazza la vettura senza targa è parcheggiata sui posti dei residenti il grido di allarme proprio dai cittadini ancora per le iniziative legate alla Shoah combattere i gesti vandalici questo è già un primo segnale un primo strumento per evitare la degenerazione verso gli estremismi ancora dalla nazione parliamo di rifiuti la guerra non è finita niente più camion da giorni a bella danza ma è scontro politico dice Carizia la predica arriva dal pulpito di chi le tariffe le ha triplicate allora leggiamo di che cosa si tratta dal 22 gennaio nessun camion è arrivato da Perugia a smaltire i rifiuti a bella danza finisce l'emergenza si volta pagina ma la questione tiene banco da Umberti da Città di Castello nel consiglio comunale Tifernate si è parlato di questo l'azienda Sogepu ha vinto una grossa gara è diventata una società di assoluta eccellenza tutti dobbiamo essere felici così ha detto Bacchetta ma Lignani Marchesani ha risposto che voleva sapere dal 22 gennaio perché nessun camion fosse arrivato a bella danza come stabiliva un pronunciamento dell'assemblea questo solo per capire dice Lignani Marchesani lo vedete in foto se l'impegno preso dal consiglio sia stato rispettato e poi Umbertide firmato il contratto di appalto per il progetto Orti Felici e ancora Umbertide Apple e Microsoft scelgono il campo è il Da Vinci che ha portato i prof a Londra ancora chiusura della E45 l'Anas insiste quel viadotto per noi è sicuro ma la procura abbiamo visto di Arezzo non è dello stesso parere Foligno comparse in rivolta non ci pagano quest'estate è stato girato a Foligno il film nati due volte e allora la responsabile del casting Umbria dice che da sei mesi le comparse aspettano di essere remunerate ma così non è avvenuto ancora centro storico sosta tra bocchetto siamo a Spoleto multe per chi parcheggia sulle strisce blu senza permesso ancora Foligno spacchetti nella task force Cina sinergie per le relazioni economiche prestigioso riconoscimento per l'avvocato Spoleto riflettori sul piano regolatore se ne parla in consiglio comunale e a Terni colori e cuore in ospedale i volontari rinnovano il reparto quadri libri murales un maxilavoro a maglia per dare una maggiore serenità ai pazienti del reparto di oncologia chiudiamo con il messaggero e le sue pagine di attualità e cronaca da Perugia la festa di San Costanzo la cardinal Bastetti che ha detto che Perugia è una città unita proprio intorno a San Costanzo Fontane tocca Piazza del Bacio il comune si muove su Fontivegge per ridare lustro a un impianto rimasto fermo ormai da troppi anni restauro in vista anche per la struttura di Via Birago quella che si trova nel Parco Santa Giuliana e Piazza Pertini e poi abbiamo già letto del resoconto della Corte d'Appello andiamo a Città di Castello nuova luce per i palazzi storici operazione da mezzo milione di euro c'è la telegestione per risparmiare e LED contro l'inquinamento luminoso a Gualdo Tadino disagi sulla Perugia Ancona troppa neve scuole chiuse ieri mattina tutte le scuole sono rimaste chiuse a causa della fitta nevicata nell'area del Lavalzorda la quota neve ha davvero raggiunto cifre importanti ma la Perugia Ancona ieri mattina era comunque difficilmente transitabile quindi qualche polemica ne è ovviamente nata Assisi piccolo carro doppia partita dal giudice Bastia degli esposti va alla guerra la candidata sindaco della Lega dalla giunta ostilità dice ed attacchi e poi Umbertide a 13 anni dalla morte la città ricorda il sacrificio dell'appuntato Fezzuoio a Todi spari contro il furgone dell'Enel al cacciatore che ha sparato pensando che fossero due ladri sono stati sequestrati due fucili andiamo nel territorio di Foligno i tesori rinvenuti sulla statale 77 diventano una mostra archeologica i reperti emersi durante la realizzazione della strada verranno esposti a Roma in estate la storia di questa persona sconosciuta che ha vinto quasi 2 milioni di euro al turista per sempre poi l'Avis di Trevi è in crescita e questa è una buona notizia considerando che l'Avis in generale a livello regionale non vive una bella stagione l'anno passato sono arrivati 50 nuovi iscritti a Spoleto turismo aumentano gli arrivi ma nelle statistiche c'è un meno 10,4% i dati raccolti dalla regione tra gennaio e novembre 2018 la pesante flessione delle presenze è falsata dall'ospitalità in albergo dei terremotati e ancora per le pagine del messaggero andiamo a Terni sport per tutte le associazioni nella palestra del Leonino la prima pietra è stata posata lo vedete dal Bescovo la struttura sarà omologata dal CONI ci fermiamo solo per qualche momento e poi lo sport e ovviamente il medio